Comincia una nuova giornata e con essa arriva l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 19 dicembre Per alcuni segni sarà un mercoledì interessante, qualcuno avrà fortuna altrimeno Scopriamo subito le previsioni odierne.Previsioni oroscopo di Paolo Fox di mercoledì 19-12 da Ariete a Vergine Ariete, giornata confusionale, potreste avvertire qualche fastidio alla testa. Cercate di ritrovare la serenità Toro, i single non cercano un nuovo amore ma solamente tranquillità. In questi giorni potrebbero arrivare delle opportunità Gemelli, l'oroscopo del 19 dicembre annuncia che avrete stelle importanti. In campo sentimentale potrebbero sorgere dei problemi di gelosia In amare cercate chiarezza.Cancro, possibili novità in amore, Paolo Fox prevede una lieta giornata Non vi mancherà il lavoro ma potrebbero esserci degli ostacoli da superare.Leone, sarete più forti che mai grazie alla forza di Giove e del Sole Vergine, l'energia scarseggia e i sentimenti sono appannati. Tuttavia, non vi mancherà al forza di fare cose grandiose Paolo Fox, oroscopo 19 dicembre 2018 da Bilancia a Pesci.Bilancia, l'oroscopo di Paolo Fox consiglia di stare alla larga dalle tensioni Questo è il periodo ideale per mettere alla prova i sentimenti.Chi è separato dovrà prestare molta prudenza Scorpione, nell'aria c'è una voglia di casa e di famiglia.Cercate di preparare le feste natalizie in modo sereno Si preannuncia un interessante capodanno.Sagittario, qualcuno avrà dentro una grande voglia di ribellione, ed ecco che seguiranno delle giornate agitate Capricorno, Fox prevede un cielo interessante con Saturno in transito nel vostro segno Ciò porta concretezza.Si consiglia prudenza specialmente per quanto riguarda il fisico Acquario, possibili intralci nei rapporti di coppia.Da non sottovalutare l'idea di programmare una vacanza, anche di breve durata Pesci, sarà una settimana molto bella perché si avvicina il Natale.Sarete sereni e generosi Fox non esclude incontri per i single.L'oroscopo è tratto liberamente dall'app di Paolo Fox denominata Astri Quest'ultima è presente all'interno degli Storey OS e Android